L'arte curiosa, questa magari la sapevi già o forse no, chissà, piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte, simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera, quella cosa particolare sull'artista e magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, e già che ci sei? Dai, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego, ti prego, ti prego, grazie! Piero della Francesca, artista rinascimentale toscano, è quasi uno svizio, insomma è un matematico prestato alla pittura, lui è uno che prima di realizzare l'opera prende le misure, crea l'ambiente in perfetta prospettiva e poi lo riempie di personaggi che non sono mai messi a caso, anzi diciamolo, qui a caso non mette davvero nulla. Nella Sacra Conversazione, che si chiama anche Pala di Brera perché è conservata proprio in Pinacoteca Brera, vediamo una serie di santi disposti a semicerchio e sono con al centro la Madonna, un bambino in braccio, e sono perfettamente simmetrici, anzi quasi simmetrici. Diciamo che sono anche ben inquadrati perché ogni santo ha dietro di sé un riquadro di marmo che lo va proprio a incorniciare. La simmetria, dicevamo, non è perfetta perché? Perché in primo piano c'è un uomo inginocchiato in armatura. È in realtà il committente Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che essendo un condottiero qui viene ritratto con la sua tenuta da battaglia. Lo spazio davanti, però, rovina la simmetria. Perché? Perché dovrebbe esserci in realtà il ritratto frontale della moglie Battista Sforza, amatissima, che però, ahimè, muore di parto nel 1472, casualmente l'anno in cui viene realizzata l'opera. Quindi, probabilmente, il bambino in braccio alla Madonna dorme, sì, ma è anche un po' morto. Perché? Perché qui si parla di vita, di morte e di rinascita. E quindi riprende anche un po' le forme che avrà da adulto nella deposizione della croce. La moglie non è presente, è morta, però, in realtà, c'è dove? Nel volto della Madonna, che è proprio il ritratto della moglie Battista Sforza. Sopra di lei pende questo uovo di struzzo dentro una conchiglia. La conchiglia è da sempre simbolo di nascita. Del resto, Venere nasce da una conchiglia. Anche l'uovo di struzzo è un simbolo di nascita e anche di perfezione, ma è anche parte dei simboli della casata di Montefeltro. Quindi questo è, in realtà, un enorme quadro sacro, una sacra conversazione, che però è anche un ritratto di famiglia. Ed è tutto un gioco di rimandi alla nascita, alla morte e alla rinascita.